Nei giorni scorsi Arturo Campetti ha rassegnato le proprie dimissioni da Presidente del Consorzio Fitta di Arco e comunicato quelle per il Consorzio di Miglioramento Fondiario Secondo Grado Altogarda avvenute già nei mesi scorsi. Sarà Giorgio Plankensteiner, Presidente di Agraria Riva, a subentrare a Campetti per quanto riguarda il Consorzio di Miglioramento Fondiario Secondo Grado Altogarda. Per quanto riguarda invece il Consorzio Fitta di Arco, nelle prossime settimane si riunirà il Consiglio che proporrà un nuovo nome. Si conclude quindi l'era Campetti, che per ben 17 anni è stato alla guida dei due consorzi, traghettandoli verso l'ammodernamento irriguo, che a breve sarà ultimato e che permetterà di ricoprire oltre 1.400 ettari con un'irrigazione automatizzata, razionalizzata e capillare. Questo anche grazie al grande contributo ottenuto dalla provincia. Campetti spiega che tra la fine di quest'anno e il 2018, la quasi totalità delle zone verdi, anche private o di pregio come l'Olivaia, saranno coperte dall'acqua del Consorzio. Infine l'ex Presidente auspica che in futuro ci possa essere un unico grande Consorzio che gestisca tutta la rete irrigua dell'Alto Garda. Grazie. 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 Grazie.